Via libera alla riapertura di piscine e palestri in campagna dopo l'ordinanza firmata dal governatore De Luca in cui sono stati esplicitati i protocolli a cui attenersi. L'uso del termoscanner, il registro delle presenze da conservare per 14 giorni, ma anche il chiarimento circa il fatto che i guanti siano da preferire una più frequente igiene delle mani con gel disinfettanti e sapone, oltre al divieto di attività che presuppongano il contatto fisico, sono i punti fermi del protocollo. Per le piscine è consentita l'attività anche a scopo di mera balneazione. Sarà opportuna la prenotazione per poter meglio gestire e regolamentare l'afflusso dei clienti e bisognerà conservare per 14 giorni l'elenco delle presenze. Bisognerà provvedere alla frequente pulizia delle strutture ed assicurare il mantenimento della distanza di un metro anche negli spogliatoi. Non sono vietate le docce, ma si richiede l'opportuna sanificazione, la divisione degli spazi comuni e la non promiscuità degli armadietti. Durante la pratica sportiva poi sarà compito dei gestori assicurare il rispetto della distanza di un metro tra le persone, da estendersi a due in caso di attività fisiche, qualora questa dovesse essere particolarmente intensa, fare in modo che la distanza sia anche maggiore. Sarà obbligo dei gestori dotare gli impianti di colonnine per la distribuzione di gel igienizzante situate in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo di igiene delle mani sia all'entrata sia all'uscita. Gli utenti dovranno a loro volta indossare le mascherine sia all'arrivo sia all'uscita. Dopo l'uso degli attrezzi, invece, sarà compito dei responsabili della struttura assicurare la pulizia e la disinfezione degli stessi. Per quegli attrezzi per i quali ciò non sarà possibile ci sarà il divieto di utilizzarli. Per gli ambienti di allenamento indoor sarà necessario garantire un'adeguata qualità dell'aria attraverso il frequente ricambio della stessa. Inoltre è prevista la sanificazione regolare frequente di attrezzature, materiali, oggetti e servizi igienici, limitando l'utilizzo di strutture per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra l'utilizzo e l'altro. Allo stesso tempo dovrà essere garantita la pulizia dei servizi igienici più volte durante la giornata e la disinfezione a fine giornata dopo la chiusura. Il personale addetto alle attività deve utilizzare obbligatoriamente guanti nitrile seguendo scrupolosamente le procedure di vestizione e svestizione ed attenersi scrupolosamente alle procedure per la corretta pulizia delle mani evitando il contatto diretto con le superfici delle attrezzature.